Mi sento più cambiato nel carattere, nell'affrontare certe tematiche, certe difficoltà. Mi sento un po' più pronto. Mi ha aiutato a non pormi troppi limiti, ad aprire, come dice proprio la scuola, la mente, riuscire a vedere un po' più in là. C'è un bel carico, insomma, quindi poi si avrà il tempo di metabolizzare. In futuro quindi come ti vedi? Mi vedo cuoco, mi vedo magari, spero, in un ambiente dove si rispecchiano le mie idee di cucina, anche la mia visuale di cucina, il mio rispetto per la cucina, insomma, in un ambiente che ama la cucina.